Ciao, sono Stefano, uno studente della Liucca, secondo anno di Economia e Amministrazione e Finanza. Perché hai scelto la Liucca? Perché è un'università importante, una grande fama e può assegurare un futuro. Perché hai scelto il tuo corso di laurea? Perché mi piace il settore finanziario. Come vivi la tua esperienza in Liucca? Ho trovato delle grandi amicizie, un gran bel gruppo, dei professori preparati e accoglienti.